Ciao a tutti amici youtube, bentornati al vostro Jimbo! Siamo qua tornati finalmente su questo gioco bellissimo, Little Big Planet Vi avevo lasciato sul più bello, cioè non so se era il più bello Era l'inizio della storia comunque Perdonatemi perché non mi ricorderò mezzo tasto, non uno, proprio mezzo E' tantissimo che non ci gioco come avete ben visto comunque Eccoci qua, siamo tornati, ciao cosa vuoi? Ciao sono l'imperatore Saro, un drogo malvagio sta attaccando le mie terre Le ho distruggendo tutto, se mi aiuti a sconfiggere ti accompagnerò a carnevale dei creatori Per prima cosa aiuti i miei ingegneri a riparare la grande muraglia Va benissimo, ok fratino, allora che cosa devo fare? Oh qua ci sono tanti adesivi, fantastico E allora sono uno degli... E ti stai facendo un macello della madonna? Non è vero, io sono qua calma Allora sono uno degli ingegneri dell'imperatore, al momento mi sto godendo una speciale pausa per te Pausa Ah, pausa a te per ingegneri, mamma mia che cazzo io dislessico Perché non fai scendere col blocco in posizione usando la leva? Allora, questo qua, questo qua Allora, mi sono ricordato, mi sono ricordato un tastino Fantastici, eccoci qua Allora, come faccio a scendere? Come faccio a scendere, madonna santa? Se scendo così, no? Aiuto, mi hai aiutato a scendere? Pronto? Allora Come... Ah, così, ok Eh ragazzi, devo... Devo ricordarmi un attimino le dinamiche Perché è troppo tempo che... No, questo qua l'ho perso Ho perso questo Lo... Lo voglio Cazzo Mamma mia, che brutta cosa Allora Eccoci qua Occhio in basso, mi sta dicendo Ah, perché qua brucia tutto quanto? Dai, forza Vieni fuori, vieni fuori Ok, andiamo, andiamo, andiamo Cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Allora Pam, pam Poi, pam Dai, pam, pam, pam Muoviti, muoviti, pam Eh, ma come faccio? Come faccio, scusami Occhio in basso, mi dice Piacere al cazzo, ma se... Come faccio? Ok Eh, eh, non ce la faccio, ragazzi Non ce la faccio Scusami Eh, 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 eh Che culo Madonna, Sandy, che culo Allora, triangolo Queste splendide lanterne reali Sollevano proprio lo spirito Chi vuol capire Boh, che cazzo Aspettate un attimo che alzo Un pochettino il volume Perché LittleBigPlanet È LittleBigPlanet È la sua colonna sonora È la sua colonna sonora Come ho già detto In tantissimi altri video Cioè, tantissimi In tutti e quattro gli altri video Di LittleBigPlanet Comunque Qua come faccio? Ah, ok Se entro qua dentro Muoio Ok, fantastico Però ho capito cosa devo fare Attaccati Sì Che figata Che cazzo di figata Ma vi rendete conto? È bellissimo sta cosa Questo muro Non si può Non si può scendere Questo muro Allora, saltiamo qua Ok Allora, dobbiamo scendere di qua Scendere di qua Che bello Che bello sto gioco È proprio rilassante Rilassante Rilassantissimo Allora, qua Qua devo scendere tante leve Allora, questa me lo porta avanti e indietro Allora, ecco, ecco, ecco Fantastico Allora, fai così Ok Questo qua Lo scendo Scendilo bene Scendilo bene Muy bene Hai sentito come ha fatto? Dai, dai, dai Eccolo là Abbiamo preso pure il nostro adesivozzo Allora, fai così Fai così Eccoci qua Nel mentre che gioco Faccio anche a voi Un bel discorsino Come ha fatto a quelli che seguono Crash Aspè, c'è un cantiere Attento ai mattoni che cadono Ok Allora, come Allora, molto probabilmente Senza molto probabilmente Di sicuro I video Riguardanti i gameplay Saranno Molto più lunghi Ok Per molto più lunghi Intendo 20 minuti Perché? Perché Per un canale Con una bassa frequenza Di video Portare delle serie È molto difficile Ok Quindi ho deciso Di non interrompere la serie Dei serie Quindi Crash LittleBigPlanet Ma Di fare i video Un pochino più lunghi Ok Dove devo andare? Cristo Gesù Resta con noi Resta con noi Dai Dove devo andare? Mi sa che ho fatto mezzo casino Dobbiamo aspettare Qua Allora Vai qua Vai qua Poi salta sopra Bravo il bambino Salta sopra Salta sopra Salta sopra Di qua Salta di qua Dai che palle Muoviti 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 E poi un'altra cosa Mi dite com'è l'illuminazione Della Della webcam Perché ho fatto Un po' di cambiamenti E non so se Va bene La prossima riparazione Impegnativa Perciò usa il marchi ingegno E c'è la fara in me Che non si dica Ok Allora questo Che cazzo è Sta roba adesso Allora Innanzitutto Questo qua Lo dobbiamo portare Un pochino più in qua Ok Oh ok Fermo lì Fermo lì Poi Come Cosa Ok Questo qua Lo ruoto Per così Magari Oh ok Ma questo qua Adesso lo facciamo Scendere ancora Parava Ce l'ho fatta Fantasticissimo Allora entriamo di qua No Non devi salire Devi scendere Eh Proprio bambino E io come ci arrivo là sotto Voglio tanti adesivi Ah faccio così Guardate che cosa Ma quanto siamo forti Vabbè non ci volevo un cazzo Però fa niente Allora Ce ne andiamo di qua Salta di qua Allora Questi qua però Non è la stessa cosa Che prenderli E cosa fa niente Ci attacchiamo E tiriamo forte Io mi sto bruciando Ma perché non salta Perché non salti Mannaggia al piffero Mannaggia Allora dai Forza 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 Eccoci qua Salta qua sopra Salta qua sopra Salta Dove cazzo devo andare Eccolo Eccolo Poi Eccolo qua Eccolo qua Salto Aiuto Ma no Ma non è che devo andare di là Sapete che non ne ho idea Non ne ho proprio idea Non ne ho proprio idea Allora dai 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 Allora Uno Due E fino a qua ci siamo Tre E fino a qua ci siamo Poi Ok Non ho capito Non ho capito com'è che si potrebbe Guarda non salta È incredibile Non salta Si blocca Che cazzo Perché mi devo bloccare In queste cazzate Madonna Santa Madonna Allora Uno Due Tre Poi fa così Mi dice di andare di qua Io adesso provo a andare di qua Mi ha fatto venire di qua Ma ci sono tanti adesivi qua Eh Ho preso Non ho preso una chiave Mamma mia Ma dove cazzo mi sono infilato adesso Dove mi sono infilato adesso Ma che cacchio è sta cosa ma Ho preso una chiavetta Fantastico Ah e siamo tornati qua Mamma mia Le palle Uno Due Tre Poi Dai Quattro Cinque Cinque Sei Adesso mi dice di saltare di qua Io salto qua E ce l'ho fatta Cioè io mi blocco sulle stronzate Perché più stronzate non si può Mannaggia santa Mannaggia Salta subito Muoviti Oh che bello questo Che figata Che figata Che figata No basta 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 Allora qua sta arrivando un coso bellissimo Che cazzo è successo? Cosa è successo? Perché sono morto? Aiuto 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 Come faccio a salire? Al piffero mannaggia Dai Sì No Madonna Santo Madonna Salta da sopra Dai Sì Allora di qua Di qua Sì 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 Ok Aiuto Sono arrivato qua E però cosa devo fare? È giusto andare di qua Sì L'imperatore ti sta aspettando in cima L'imparcatura Fai attenzione agli esplosivi Mentre sali Va bene Va Va bene Come faccio a salire? Devo scendere Ok Molto bene Basta Basta Uno lo dice Uno lo dice E io non mi faccio Tutti questi Cioè Veramente Veramente Pam Che cosa è questa cosa? Mi fa esplodere Ok Allora Salta qua sopra Dove devo andare adesso? Devo scendere ancora Va bene Va bene Allora Questo cosa Ah mi sa che questo Non lo devo portare Da nessuna parte Allora Andiamo di qua Tiro una leva Ok Mi sa che mi devo muovere Credo che io debba muovermi Muovete Ok Andiamo di qua Mamma mia La colonna sonora La colonna sonora Ma è possibile Che sia così bella La colonna di Un cacchio di gioco Di 90 anni fa Si fa per dire Però Prendetevi conto voi Che cos'è che vi tira fuori Il vostro Jimbo Ovvero Tia Ovvero Jimbo Ovvero Chiamatemi come cazzo volete Allora Saltiamo ancora qua sopra Andiamo qua sopra E' un po' Noiosetto Sto livello Non trovate Stiamo continuando A salire Scendere Salire Scendere Che cacchio Però vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Allora Andiamo di qua Che cos'è che c'è Alla dietro Aiuto Il drago è tornato Che diavolo verrà Forza in fuga Andiamo in fuga Intanto sto guardando Quanto sono Di registrazione Sto guardando Anche Che ore sono Allora Facciamo così Siccome io devo fare Tante cose oggi Oggi Ve lo stoppo qua Quindi continuiamo Ancora una volta Cioè Continuiamo ancora Per una volta Con un videozzo Fatto solo Su un singolo livello Dalla prossima volta Però vi registrerò Credo Due livelli Ok No Continua Che cosa rigioco Il livello Dalla prossima volta Riuscirò a registrarvi Due livelli Per arrivare a minimo 20 minutini Di gameplay Ok Perché Ve l'ho detto Anche prima Stavo ruttando Ok Allora Il videozzo Di oggi Finisce qua E ci vediamo La prossima volta Ciao